Sono una studentessa di dottorato in Mind, Gender e Language presso l'Università Federico II di Napoli. In occasione del 798esimo compleanno della nostra università, vorrei dire qualcosina sul nostro Ateneo. Innanzitutto per me Unina è sempre stata casa, fin dalla triennale. Sempre è stato un luogo in cui mi sono sentita al sicuro, mi sono sentita accolta, mi sono sentita che tutte le ingiustizie che vivevo al di fuori dell'Ateneo, una volta entrata nel mio dipartimento, in qualche modo, in parte si azzeravano, perché vedevo che il mio essere una persona LGBT, provenire da una famiglia povera, in qualche modo non fosse per me una condizione di svantaggio. Mi sono sempre sentita valutata per lo studio e non per altre caratteristiche individuali. Mi sento in particolare di ringraziare le mie due prof, Danila Laforesta e Maria Carmela Godi. La Federico II è un grandissimo Ateneo, io sento di essere una privilegiata e sono onorata di essere studente di questo Ateneo. E che dire, buon compleanno Unina! Grazie!